Se le sono date di santa ragione e un diciottenne è finito in ospedale, una vera e propria rissa tra almeno dieci giovani è avvenuta nel fine settimana e ha tenuto svegli i residenti per tutta la notte in Piazzetta della Libertà a Cavallino Treporti. La scazzottata ha coinvolto i giovani del posto, come del posto il ragazzo ferito e trasportato all'ospedale di Jesolo. Sembra che tutto sia iniziato da una banale discussione tra i giovani, la maggior parte minorenni, e che sembra già si conoscessero essendo tutti della zona, a dare l'allarme ai residenti perché la discussione è ben presto degenerata in una zuffa violenta interrotta solo dall'arrivo delle volanti della polizia del commissariato di Jesolo chiamate dai residenti. Il reato ipotizzato è quello di lesioni, anche se molto dipenderà dalla durata della prognosi formulata dai sanitari per il diciottenne ferito. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza che purtroppo ha caratterizzato l'estate e quest'autunno lungo il litorale, soprattutto a Jesolo, ma non solo.